Nel giorno dedicato ai lavoratori la carovana dei diritti della CGL approda a Fonte Cerreto. Da oggi, mercoledì 1 maggio, viene sospesa, infatti, l'attività della funivia per permettere la sostituzione di quattro funi portanti. Non solo, ieri a Roma l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, in riunione, tra gli altri, con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, ha approvato un'anticipazione della revisione generale della funivia, prevista per il 2028. Un modo per evitare che in poco più di tre anni l'impianto chiuda due volte. Peccato che non si sappia nulla su quanto dureranno i lavori, né su cosa faranno gli operatori nel periodo di chiusura. Oggi siamo a Fonte Cerreto per portare solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici del centro turistico del Gran Sasso, che, a causa della negligenza della politica, rischiano di vedere compromesso il loro diritto al lavoro e al salario. Così Francesco Marrelli, segretario generale della CGL dell'Aquila, contattato telefonicamente dalla nostra redazione. Vogliamo riaccendere i riflettori su una vertenza che interessa l'intero comparto montano del Gran Sasso, continua, chiedendo alla politica di intervenire celermente per dare il via a tavoli di programmazione tesi a risolvere le problematiche che stanno attualmente attraversando i lavoratori e le lavoratrici. I lavori per cui sono stati stanziati 4 milioni di euro sono particolarmente complessi, considerando tra le altre cose la quota in cui si dovranno effettuare ed il fatto non secondario che mentre saranno sostituite le funi, le due cabine non potranno essere appoggiate a terra visto l'enorme peso del carrello che le sovrasta. Dunque da oggi e fino a data da destinarsi, la funivia resterà chiusa. Al suo posto il comune dell'Aquila, in collaborazione con Ama, ha previsto un servizio navetta a Fonte Cerreto, campo imperatore. Grazie.